È ufficiale, il campionato di eccellenza di calcio ripartirà. Il comitato regionale infatti ha comunicato date e formula del nuovo torneo La Lega di Lettanti, che ha ricevuto il via libera dalla FIGC. Si è trattato di uno step necessario per completare l'iter del riconoscimento dell'interesse nazionale da parte del CONI. Il format prevede tre raggruppamenti da 11 squadre, gare di sola andata e playoff con girone all'italiana per stabilire le due promosse in serie D. Non ci saranno retrocessioni. La regular season comincerà l'11 aprile e terminerà il 2 giugno. Previsti tre turni infrasettimanali, il 28 aprile, il 12 maggio e proprio il 2 giugno in occasione dell'ultima giornata. Le partite di spareggio si disputeranno il 6, il 9 e il 13 giugno. Inoltre sono stati sorteggiati calendari con il Ladispoli che avrà subito un turno di riposo. Il girone A partirà con il derby tra Aranova e Città di Cerveteri. Il Pomezia debutterà in sferta contro la Vigor per Conti, mentre il fiumicino ospiterà al desiderio il Real Monterotondo Scalo. Proprio la società rosso-blu è già scatenata sul mercato e ha annunciato i ritorni dell'attaccante Mirko Forcina e dell'esterno Alessandro Reale. Il girone B aprirà il sipario con un Ipomezia Sporting Aricia e l'Upa Frascati Indomita Pomezia. Da oggi il via agli allenamenti per farsi trovare pronti all'appuntamento con la ripartenza.